Bambini a rischio violenza alla frontiera nord e ragazze costrette a prostituirsi per varcare il confine a 20 miglia. E' quanto dice il rapporto piccoli schiavi invisibili di Save the Children? L'indagine fotografa lo stato della tratta e dello sfruttamento dei minori immigrati in Italia. Al 31 maggio risultano irreperibili nel nostro paese 4.570 minori che hanno abbandonato le strutture di accoglienza in cui erano stati inseriti. E' bene chiarire che molti minori spariscono perché provano a proseguire per altre nazioni europee. Molto alta è la propensione all'abbandono delle comunità di accoglienza da parte delle minorenne eritree e somale. Queste ultime sono le più deboli. Al confine italo-francese nei pressi di 20 miglia risulta Save the Children che alcune ragazze si prostituiscano per guadagnare i soldi necessari ad attraversare la frontiera. Pagando i passeri in natura o con il denaro guadagnato. La tariffa di un passaggio in auto per la Francia oscilla tra i 50 e i 150 euro. Normalmente le auto di privati italiani non vengono controllate. Lo sgombero del campo non ufficiale, sorto lungo il fiume Roia al confine tra Liguria e Francia, avvenuta ad aprile scorso, ha aggravato la situazione. Gli operatori di Save the Children hanno trovato in strada molti minori in condizioni di grave degrado e promiscuità, alleviati in modo sporadico dall'operato di associazioni umanitarie, che offrono assistenza legale, possibilità di connettersi a internet e altri beni di prima necessità. Le strade principali per espatriare dall'Italia e gli altri paesi europei sono il Brennero per l'Austria, Como per la Svizzera e Bardonecchia e Ventimiglia per la Francia, usando semplicemente bus low cost, treni merci e passeggeri e treni regionali o ancora di più passaggi in auto private.